L'eurodeputato Andrea Cozzolino, indagato nell'inchiesta sul cosiddetto Catergate, è stato rilasciato. Accompagnato dai suoi legali, il politico ha lasciato la sede della Procura federale a Bruxelles dopo un interrogatorio di 5 ore con il nuovo giudice istruttore Aurelie De Geff. La nomina del nuovo giudice arriva all'indomani della decisione irrevocabile di Michel Claes di lasciare la guida dell'inchiesta. Il perché è stato motivato dal giudice uscente con la necessità, in via cautelare, di consentire alla giustizia di continuare serenamente il suo lavoro e di mantenere una necessaria separazione tra vita privata e familiare e responsabilità professionali. Cozzolino intanto ha risposto a tutte le domande, negando ogni addebito, ha spiegato il suo difensore Federico Conte, precisando che l'eurodeputato dovrà rispettare alcune prescrizioni, tra cui l'obbligo di restare a disposizione delle autorità e di comunicare l'eventuale intenzione di lasciare il Belgio.